Ma che p***o di c***o! Con i rossoneri, tifosi della squadra capolista! Pinto il mio pane! L'altra mi viene da ridere perché... Vito di insulti! Pio lei di crisi! Pio lei di crisi! Fa un'altra cappellata sul primo palo! C***o stai diventando peggio di Radue! Non so se ve la giocate a pari merito tu e Radue! Bravo! Povero Gambiano! Hai perduto il controllo di te stesso perché ormai non ci sei più con la testa! Non ci sei più con la testa! Diavoli rossoneri! Tifosi della squadra capolista! Tifosi della squadra araba! No, non siamo ancora arabi! Ma non doveva firmare... Ma ieri non era venerdì! Non doveva firmare secondo le fonti! Non doveva firmare ieri l'arabo! Tifosi della squadra capolista! Ma firma, firma! Non vi preoccupate! Tra qualche settimana firma! Mi raccomando, iscrivetevi al canale! E lasciate un like! Voglio ringraziare tutti quanti di cuore perché oltre agli iscritti che stanno crescendo vedo che stanno crescendo tantissimo i like! E i like sono la mortadella, la Bologna di questo canale! Sono la Bologna! Non sto alludendo, non voglio sfottere nessuno! Sono la Bologna di questo canale i like! Quindi iscrivetevi al canale e lasciate il like! Ieri il Napoli dichiara che nessuno è incedibile! Nessuno incedibile! E fa il prezzo di Osimè! Rilascia il prezzo di Osimè! Chi lo vuole comprare deve tirare fuori 100 peperoni! 100 milioni di euro! Ma la cosa che mi fa più ridere è che su qualche giornale è saltato fuori Osimè 100 milioni! Il Milan ci sta pensando! Secondo voi il Milan potrà mai andare a spendere 100 milioni per Osimè? Adesso, con tutto l'amore che si può avere per questo giocatore, è forte! Non sto dicendo che è una pippa! Osimè è forte, è un grande giocatore! Ma 100 milioni! Non è che adesso arriva Invest Corp! Allora è quello del paese dei balocchi! È il pirla della situazione! Non spariamo cazzate dalla mattina alla sera perché adesso arriva questo e c'è i soldi! Allora il Milan adesso andrà a spendere 100 milioni di qua, 100 milioni di là! Non si può andare a spendere 100 milioni! Probabilmente nel calcio mercato inglese, forse in Inghilterra, vedendo l'acquisto che hanno fatto con Lukaku possono andare a spendere 100 milioni! Ma in Italia una squadra che spende 100 milioni non esiste! Soprattutto per un giocatore come Osimè, non sto dicendo che è scarso, è forte, a me piace! Ma non penso che il Milan andrà a spendere 100 milioni! Quindi non spariamo, cagate! Mi raccomando! Pensando al campo si avvicina la battaglia! La partita che secondo me può spezzare le gambe all'Inter! Che è Milan-Fiorentina! Giochiamo prima di loro! Se il Milan vince può spezzare le gambe all'Inter! Psicologicamente vedere il Milan che vola potrebbe essere una batosta per l'Inter Anche perché l'Inter secondo me arriva sulle gambe Visto che ha giocato il grandissimo recupero mercoledì Potrebbe essere ragazzi la partita decisiva secondo me Potrebbe essere una partita di quelle decisive per questa lotta allo Scudetto Anche perché l'Udinese arriva in grande forma contro l'Inter La Fiorentina sicuramente avrà voglia di rivalsa perché arriva da due sconfitte Arriva San Siro Un San Siro strapieno da adesso fino a fine campionato Un San Siro stracolmo quindi massimo supporto per la squadra Il Milan ritrova Benasser come ha ritrovato Ibra Come ha ritrovato Erebic Quindi siamo a pieno regime Siamo completi al massimo Mister Pioli avrà grande grande scelta Il Milan che dovrebbe andare in un mini ritiro Questa sera a Milanello per poi partire direttamente per San Siro il giorno dopo Io sono fiducioso Io sono molto molto fiducioso Paura di nessuno Ormai è tutto nelle nostre mani Non dobbiamo più guardare gli altri Ormai è tutto nelle nostre mani Abbiamo anche la possibilità di un pareggio Possiamo giocarci anche un pareggio Ma io per come sono io Caratterialmente le voglio vincere tutte Ci vediamo domani Sempre forza diavolo Iscrizione al canale Paura di nessuno